12 delle 24 citazioni contro Silvia Ferrante sono state ritirate questa mattina ed è sicuramente un passo importante compiuto da Terna, ma la questione retrodotto non è affatto risolta. Sono trascorsi anche 60 giorni di tempo richiesti dal Ministero dell'Ambiente di concerto con la Regione Abruzzo per verificare eventuali danni ambientali. Verifiche che sembrano non essere state effettuate e comunque nulla si sa in proposito. Un silenzio che preoccupa anche quegli amministratori che hanno dato il via a una battaglia fin dall'inizio dell'opera, come il sindaco di Castelfrentano, Gabriele D'Angelo, che attende il pronunciamento del Tar sul merito. Sono qui a testimoniare ovviamente la nostra vicinanza come sindaco ma anche come comunità di Castelfrentano. Castelfrentano attende ancora un esito importante, quella della discussione del merito del ricorso che insieme al Comune di Paglieta abbiamo portato avanti. Speriamo nella giustizia che faccia il suo decorso nel più breve tempo possibile e ci dia anche ragione delle nostre osservazioni. In effetti l'impegno e il lavoro dei comitati, delle associazioni e di alcune amministrazioni che hanno dato vita alla campagna Io sto con Silvia hanno sicuramente avuto un ruolo determinante in questa svolta processuale. Vale appena ricordare che anche comuni come Civita Luparelli e Frisa, che pur non interessati dalla contestata opera, hanno aderito alla campagna, tanto che questa mattina in tribunale c'era pure il primo cittadino di Frisa, Rocco Di Battista. Il nostro Comune si è aderito a questa campagna e sostiene in tutti i modi in cui riesce Silvia, nella sua battaglia contro questo sopruso che Terna sta facendo nei suoi confronti e nei confronti di tutta la popolazione abruzzese che si è opposta alla costruzione di questo lettrodotto. Secondo noi troppo invasivo e non siamo sicuri che sia anche utile per il nostro territorio. E c'era pure Mario Pupillo, in qualità di presidente della provincia di Chieti, che ha ribadito Come presidente della provincia non posso che essere felicissimo della partecipazione di altri comuni che sono comuni non interessati dal passaggio dell'elettrodotto, quindi Frisa e Civita Luparelli. È un segnale di grande maturità, di vicinanza da parte dei sindaci e degli amministratori locali per una battaglia fatta da una donna coraggiosa che ha voluto opporsi a un disegno strategico che non ha rispettato cittadini e territori e su cui noi dobbiamo veramente porre in essere tutte le attività lecite che possano dare ragione ai diritti dei cittadini. Io come presidente della provincia quindi ringrazio tutti i comuni che hanno fatto questa operazione in particolare Castelfrentano e Paglieta con cui il comune di Lanciano si è gemellato è stata questa triade di comuni a mettere in atto un'azione forte e decisiva a cui poi si sono aggregati altri e quindi io penso che noi amministratori dobbiamo essere presenti in prima fila, oggi siamo qui in tribunale proprio per far sentire a Silvio che siamo vicini per difendere con i suoi diritti i diritti di tutti i cittadini.